ciao a tutti in tantissimi mi avevate chiesto di parlare della nuova lotus elettro il nuovo hyper suv full electric prodotto da lotus con delle prestazioni davvero incredibili e oggi voglio proprio illustrarvi la vettura parlarvi delle sue differenze tra i vari modelli perché come sapete esiste elettro base che parte da un prezzo di 98 mila euro elettro s 124 125 mila euro ed elettro r 154 mila euro la differenza tra i vari prezzi adesso andrò a spiegarvela ed è completamente giustificata perché ci sono delle differenze sostanziali partendo dal design direi che gli ingegneri lotus veramente questa volta hanno fatto un'opera d'arte sia dal punto di vista estetico degli interni che degli esterni e parlando appunto degli esterni vediamo tantissime soluzioni aerodinamiche con addirittura sette passaggi d'aria che fungono appunto per poter direzionare i flussi d'aria nel migliore dei modi per aumentare chiaramente il carico aerodinamico e migliorare il coefficiente di penetrazione aerodinamica perché sappiamo che comunque su una macchina elettrica anche il coefficiente di penetrazione aerodinamica come anche su una macchina con motore endotermico è molto molto importante per riuscire a contenere al massimo i consumi e direi che l'obiettivo è stato perfettamente centrato vediamo addirittura nella parte anteriore c'è questa griglia che rimane chiusa nei momenti in cui le batterie l'impianto frenante non hanno bisogno di essere raffreddati rimane chiusa appunto per poter migliorare il coefficiente d'attrito aerodinamico e poi si apre invece nel momento in cui le batterie e l'impianto frenante dovessero avere bisogno di raffreddamento continuando a guardare dal punto di vista estetico la carrozzeria anche nella parte anteriore i buchi che sono ricavati dal cofano chiaramente servono proprio per fare come dicevo prima girare il flusso d'aria nel migliore dei modi e quindi far sì che questo flusso d'aria abbia una funzione che poi contribuisce alla stabilità della vettura passando al tetto nella parte posteriore ci sono queste due alettine che non hanno altro che la funzione tanti potrebbero pensare che sia che abbiano una funzione prettamente estetica ma in realtà si hanno una funzione estetica perché sono bellissime da vedere ma hanno proprio la funzione di abbassare il flusso d'aria e direzionarlo direzionarlo verso l'appendice mobile che è posizionata sul sul cofano posteriore che quindi si alza solo a determinate velocità e in determinate condizioni di utilizzo nella parte posteriore poi ci sono chiaramente questi buchi che servono appunto per estrarre aria dal vano ruota quindi servono per togliere pressione dal vano ruota che ricordano un po i buchi che abbiamo già visto su emira e anche su evaia parlando ora di argomenti un po più succulenti diciamo per appassionati e quindi performance come performance l'elettra è veramente una vettura è veramente un hyper sub perché velocità fanno entrambe 260 chilometri all'ora all'incirca e da 0 a 100 le lettere il modello base con 600 cavalli o la s fanno a 0 a 100 in 4 secondi e 8 4 secondi e 9 mentre la mille la 900 cavalli fa da 0 a 100 in 2 secondi e 9 quindi prestazioni da hyper car non hyper suv e anche in questo gli ingegneri lotus hanno perfettamente centrato l'obiettivo per quanto riguarda gli interni poi per provare la vera sensazione di dimensione che ti dà bisogna salirci perché è davvero stupendo nel momento in cui ci si siede nell'abitacolo sia nella parte anteriore che sia nella parte posteriore percepire questa sensazione di spazio che è veramente bellissima con questi sedili che poi ti avvolgono e comunque sono hanno una comodità davvero elevatissima e permettono quindi di poter essere avvolti dall'abitacolo e sentirsi completamente a casa per parlare ora un po dei tre modelli e letra le 3s e le 3r allora partendo dalla dall'equappaggiamento standard della elettra base diciamo che ha già un allestimento super accessoriato può essere si può scegliere solo in due colorazioni quindi il caimu gray oppure lo stellar black è un grigio e un nero mentre le altre due versioni si possono scegliere in sei colori perché hanno in più il natron red il verde un altro grigio e il solar yellow per quanto riguarda gli interni poi vabbè abbiamo già un sistema di climatizzazione nelle lettere base a quattro zone poi abbiamo la possibilità di accedere alla vettura senza la chiave di metterla chiaramente in moto senza la chiave addirittura dalle impestazioni del computer di bordo si può decidere se all'avvicinamento della vettura questa faccia uscire le le maniglie per poi entrare in macchina una delle altre impostazioni di questo genere anche quella del bagagliaio che all'avvicinamento del proprietario della vettura il bagagliaio posteriormente si apre questa è una delle funzioni che si possono impostare nelle lettere base poi la panchetta la panca posteriore dei sedili ha la possibilità di ospitare cinque posti e poi come optional invece è previsto il 2 più 2 quindi quattro posti quattro posti in cui non vengono altro che replicati i sedili della parte anteriore nel posteriore ecco una delle cose molto particolari ed interessanti proprio di elettra e sono i pannelli delle portiere i pannelli dei sedili che vengono prodotti in carbonio riciclato quindi assolutamente eco friendly e in più chiaramente molto molto leggeri perché poi vengono rilavorati in autoclave e formati in modo da poter diventare il guscio dei sedili e i pannelli delle portiere dicevamo per le lettere basi cerchi da 20 pollici a 5 razze che ospitano dei pneumatici da 255 50 20 all'anteriore 285 45 20 al posteriore per quanto riguarda poi per ritornare agli interni abbiamo un head up display da 29 pollici e nella console centrale invece un display o led da 15 15 1 pollici nella parte posteriore invece c'è un altro display da 12 12 pollici e 6 per quanto riguarda l'impianto i fai ancora chef che ha fatto un lavoro superlativo con un impianto nelle lettere base da 15 altoparlanti che poi come option può essere steso a 23 oppure è di serie a 23 altoparlanti sulla e lettre s per parlare poi delle differenze di e le 3s e le 3s a come optional addizionali rispetto alle 3 i cerchi da 22 pollici pneumatici da 275 40 22 all'anteriore 315 35 al posteriore poi a un impianto frenante più grande perché ecco ricordiamo e lettre base a una pinza anteriore da quattro pistoncini mentre la e lettre s e sulla e lettre r sono montati dei dischi più leggeri e e in più una pinza in alluminio a sei pistoncini dal punto di vista estetico poi per quanto riguarda oltretutto gli esterni la e le 3s a differenza della e lettre base a la lala posteriore attiva poi al soft door close quindi il sistema per far chiudere le portiere in modo in modo soft in più alle le barre sul tetto e la possibilità appunto di far aprire il cofano eh posteriore all'avvicinamento quindi senza l'utilizzo delle delle mani motorizzazione delle 3s sempre da 600 cavalli il salto viene eh con elettra r le 3r perché le 3r ha la il doppio motore eh da eh eh mille cavalli quindi 900 per la precisione 931 cavalli con una motorizzazione eh più potente al posteriore quindi spinge di più nella nella parte dietro ricordiamo che ha eh un sistema di eh ammortizzazione di molle eh a doppia camera ad aria e eh questo sistema viene controllato attivamente eh con questo dinamiche eh handling eh pack e eh ha un sistema intelligente per controllare il rollio e il beccheggio della vettura quindi dal punto di vista eh dell'handling diciamo che le 3r ha davvero una marcia in più e ha una marcia in più a tutti i sensi perché è le 3r rispetto a le 3 base e alle 3s ha eh il cambio a doppia velocità quindi a una trasmissione a doppia velocità per quanto riguarda i cerchi le gomme sono eh sempre da eh 22 pollici con poi la possibilità di montare addirittura il 23 preumatici sempre 275 all'anteriore 315 al posteriore pinza dei freni sempre sei pistocini come le 3s e eh i dischi freno eh leggeri in più per quanto riguarda eh gli esterni eh a eh l'active aeropack quindi con la possibilità di aumentare o diminuire il caricore dinamico con eh l'ala posteriore e l'apertura della presa d'aria sull'anteriore e il pacchetto eh carbonio di serie quindi eh con il lo splitter anteriore il paraurti il paraurti anteriore le coperture degli specchietti laterali e comunque tutta una serie di eh oggetti che sono veramente belli belli da vedere altra caratteristica da non sottovalutare è quello che vediamo qui adesso sono proprio dei sensori che fuoriescono dalla parte anteriore della macchina e non sono dei sensori normali tradizionali ma sono dei veri e propri radar che servono perché la vettura è già predisposta per la guida autonoma di livello 5 quindi la massima espressione di guida autonoma e io eh sono completamente convinto che la filosofia di Chapman non sia stata per niente stravolta è chiaro che è la filosofia di Chapman portata su una piattaforma di macchina che ha delle dimensioni per cui non si possono eh contenere i pesi eh la gente vorrebbe una macchina che pesa meno di mille chili ma su delle dimensioni del genere come si fa ad avere una macchina che pesa meno di mille chili e però guardate che se la guardate bene dal punto di vista aerodinamico e anche internamente a livello eh di motore trasmissione eh sospensioni è stato fatto veramente un lavoro super all'avanguardia non esagero nel dire che hanno fatto un lavoro davvero eccelso in cui secondo me mettono veramente a dura prova la concorrenza concorrenza di marchi super blasonati per cui c'è tanto di cappello da dare però ragazzi qua Lotus ha fatto veramente un prodotto stupendo con questo direi che è tutto vi ringrazio eh di avere seguito il video spero di essere stato abbastanza esaustivo qualora aveste ancora qualcosa da chiedere potete scriverlo nei commenti ricordate di seguire la nostra pagina e di mettere un like se vi è piaciuto il video restate connessi perché ne faremo presto degli altri grazie e ciao a tutti